È sempre bello potersi incontrare con la realtà di tutta Italia e tutte le persone che all'interno della nostra Chiesa sono impegnate in questa esperienza di attenzione e cura nei confronti delle persone più fragili. In questo senso il tema che ha accompagnato queste giorni che abbiamo vissuto a Roma in un contesto anche molto bello e piacevole, il tema è stato proprio quello dell'inclusione sociale, l'importanza di vivere la dimensione della carità e della cura dell'altro come appunto una preoccupazione perché il povero sia incluso, soprattutto riconoscendo la dignità di ogni persona e quindi aiutando il povero a ricostruire, a riavere quella dignità che è propria di ogni persona e che la povertà in quanto tale distrugge. Questo è un po' stato il tema dominante che ha attraversato tutte le relazioni intorno alla quale anche nei lavori di gruppo che abbiamo vissuto nel secondo pomeriggio abbiamo appunto lavorato e quindi fare questi giorni diventa anche un'occasione di rimotivazione, certo per tutti noi che abbiamo vissuto questa esperienza, quattro persone della nostra diocesi sono andati al convegno per appunto ritornare a questa esperienza con il desiderio di un impegno rinnovato per questa inclusione sociale dei poveri. Una rimotivazione, la possibilità di incontrare e confrontarsi con altre realtà, con altre esperienze. Ecco dal punto di vista primariamente diocesano che tipo di esperienza è stata questa? Da un punto di vista diocesano penso che la ricchezza più grande sia poi incontrare altre esperienze di chiesa, altre esperienze di caritas diocesane. In realtà le esperienze sono molto variegate anche perché l'Italia c'è una sua differenza al suo interno, la chiesa stessa italiana c'è una sua differenza al suo interno per cui ci sono caritas molto strutturate, molto diciamo forti da un punto di vista di presenza sul territorio, altre che hanno una presenza veramente di segno ma ciò che sicuramente ha attraversato l'animo di tutti noi è il desiderio di essere chiesa, di essere una chiesa che aiuta tutta la chiesa a essere ospedale da campo utilizzando l'immagine di Papa Francesco. A proposito di Papa Francesco la conclusione poi di queste giornate di riflessione e confronto è avvenuta con l'udienza con il Santo Padre? Certo che è sempre un momento bello d'incontro anche facilitato dal fatto che eravamo sì nell'immensa aula nervi ma noi soli quindi molto vicino a contatto quindi ha potuto salutare praticamente tutti noi e ha potuto lasciare il suo messaggio, il suo messaggio forte come sempre di attenzione alla povertà e penso che più volte nelle parole del Papa sia risuonata questa idea, siate la carezza di Dio e questo segno mi sembra quello più importante, l'immagine che alla fine del convegno ci è stata consegnata, la caritas come appunto la chiesa che vuole essere la carezza di Dio, la carezza attraverso la carità e quindi l'amore che fa, che agisce nei confronti degli ultimi.